Non è che io sia esattamente Nostradamus quando faccio questo genere di video che però mi diverte molto e quindi direi che possiamo partire con il pronostico della classifica finale della Serie A 2019-2020 Bene, da quel video sono passati esattamente 5 mesi e di cose ne sono successe alcune le ho indovinate, altre chiaramente no, come è normale che sia però non sono l'unico a essersi esposto perché sotto quel video c'erano un sacco di vostri commenti e al di là di chi ha commentato e chi non ha commentato chiunque quest'estate aveva un proprio pronostico e allora vi chiedo di commentare qui sotto dicendomi nella massima onestà se questo girone d'andata ha rispettato il vostro pronostico oppure c'è stato qualcosina che vi ha stupito Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video come avete già intuito e come vedete anche dallo sfondo oggi si parla di Serie A e in particolar modo di classifica perché sì, è finito il girone d'andata è successo davvero di tutto personalmente mi stavo riguardando quel video che vi ho mostrato all'inizio di pronostico come faccio da 4 stagioni praticamente assieme a Seekwolf e altri componenti di Youtube Italia Calcistica e non c'è più mai, mai, proprio non c'è pericolo state sicuri che sicuramente qualche sfondone lo tiro sempre fuori infatti riguardandomi qualche minuto fa il video mi sono messo a ridere da solo in camera rendendomi conto delle castronerie che dissi quest'estate ma ci siamo, è sempre così intanto ditemi qui sotto se voi ci state prendendo oppure no adesso però io vi elenco le posizioni di quest'estate e le mettiamo in relazione con quelle che poi sono le posizioni attuali della Serie A per carità il pronostico non era sulla base della fine del girone d'andata ma sulla base della fine del campionato e quindi ancora potenzialmente posso prendere qualcosina però per il momento vediamo quante posizioni ho indovinato e quante invece dunque io quest'estate con fierezza dopo un'attenta analisi e studio perché effettivamente avevo un po' analizzato il mercato delle neopromosse avevo con fierezza messo al ventesimo posto l'Ellas Verona ecco peccato che il Verona in queste prime 19 giornate sia stata la squadra rivelazione praticamente del campionato attualmente al nono posto con 25 punti e al ventesimo c'è la SPAL che pensate io ho messo molto più in alto ma ci arriveremo al diciannovesimo e al diciottesimo posto avevo messo due retrocesse d'onore praticamente quindi due squadre che militano nel campionato di Serie A da tanti anni ma che secondo me l'avrebbero abbandonato in questa stagione nello specifico Bologna e Udinese e ho toppato anche qui tra l'altro per il Bologna ha presi tantissimi insulti per il fattore Mihailovic perché mi spiegai male, colpa mia intendevo appunto, ma lo pensavo realmente che con i problemi di salute per Mihailovic quindi il fatto che non potesse sempre essere in panchina la squadra rosso-blu potesse avere molti più punti persi in stagione quindi soffrire di questa situazione in realtà è successo l'opposto intanto mi ero espresso male perché sembrava dalle mie parole che Mihailovic non fosse più l'allenatore della Bologna cosa che invece non è e non pensavo ma il Bologna addirittura è riuscito a farsi forza in base a questo Mihailovic poi è stato in panchina diverse volte e i punti sono arrivati non tantissimi perché il Bologna comunque è al tredicesimo posto con 23 punti a più 9 sulla zona retrocessione quindi comunque sia no, non ci ho preso è inutile che io provi un pochino ad inventarmi qualcosa mentre appunto al diciottesimo posto avevo messo l'Udinese che è dodicesimo ha più uno proprio sul Bologna quindi ha fatto effettivamente meglio in realtà nel vero campionato di Serie A al diciannovesimo posto c'è il Brescia che non sta facendo bene con 14 punti gli stessi del Genoa e in questo caso effettivamente comunque una retrocessa di lusso ci sarebbe anche se il Genoa già l'anno scorso aveva rischiato tantissimo infatti la dissi questa cosa nel video di quest'estate usciamo dalla zona retrocessione, spostiamoci al diciassettesimo posto dove in realtà c'è una squadra che ha fatto un pelino meglio un punto in più rispetto a Genoa e Brescia in classifica parlo del Lecce Lecce che ha 15 punti al diciassettesimo posto e questa l'ho indovinata perché l'avevo appunto messa lì con questo criterio quindi il poter fare leggermente meglio pur essendo una squadra che manca da tanti anni in Serie A ma costruita secondo me discretamente poi magari retrocederà a fine stagione ma secondo me se la lotterà comunque fino alla fine lo pensavo quest'estate e continuo a pensarlo tuttora sedicesimo posto dove ho messo il Brescia toppato perché al sedicesimo in realtà c'è la Sampdoria che avevo messo molto più in alto dando fiducia a Di Francesco al contrario di quello che poi hanno detto i numeri al quindicesimo posto in realtà c'è il Sassuolo e io avevo messo il Cagliari che ci sta stupendo anche avendo un periodo down nell'ultimo mese però in realtà ha fatto una grandissima parte di stagione una grandissima prima parte di stagione e quindi è molto più in alto cioè il morale della favola ho sbagliato anche questa quattordicesimo posto avevo messo la Spal ma l'abbiamo visto che è ultima in classifica al tredicesimo avevo messo il Parma che ha fatto meglio perché in realtà al tredicesimo c'è il Bologna che avevo dato penultimo quindi stiamo andando alla grande al dodicesimo abbiamo visto esserci appunto l'Udinese mentre la mia pronosticata era il Sassuolo che in realtà è al quindicesimo posto undicesimo posto questa non potevamo pronosticarla ragazzi c'è il Napoli in realtà io da pronostico avevo messo il Genoa che però abbiamo visto sta facendo molto peggio il Genoa lo avevo messo lì dando molta fiducia ad Aurelio Andreazzoli cosa che però in realtà non c'è stata da parte di Preziosi e io continuo tuttora a non condividerlo anche perché poi senza Andreazzoli non sono migliorate le cose è subentrato Tiago Motta al quale è subentrato Nicola quindi non è migliorato assolutamente nulla bisognava dare tempo ad Andreazzoli perché già l'anno scorso aveva mostrato belle cose all'Empoli quest'anno in parte con il Genoa si era tolto anche qualche soddisfazione più cose negative che cose positive sicuramente però lo sapete come la penso e ribadirlo non fa mai male il tempo non è dare una, due, tre partite o comunque uno, due mesi ok che siamo in Serie A e servono i risultati ma se vuoi costruire un progetto devi dare molto di più l'ho detto per Sarri infatti vi lascio il video qui sopra nelle schede detto questo però non perdiamoci in chiacchiere perché andiamo avanti con la classifica quindi Napoli in realtà la squadra all'undicesimo posto grandissima delusa del campionato io non vi dico dove l'ho messa ma lo vedremo tra poco al decimo posto un'altra grande delusa perché c'è il Milan che però è leggermente in ripresa dati i quattro punti nelle ultime due decimo posto che avevo pronosticato per il Torino di Walter Mazzarri che in realtà sta facendo meglio perché il Torino nella realtà è all'ottavo posto con il Verona al nono mentre secondo la mia classifica al nono e all'ottavo posto ci sarebbero dovute essere Samp e Fiorentina con la Viola che è più giù l'avevamo vista al quattordicinimo posto la Samp anche è molto più giù però insomma l'avevamo detto e abbiamo vissuto la prima parte di stagione quindi neanche a dirlo io però avevo fatto un pronostico un po' più ottimista proprio sulla base degli allenatori che però sono non a caso stati esonerati entrambi Di Francesco in casa Ligure e Montella in casa Viola anche lì possiamo essere d'accordo o meno però poi parlano i risultati e quindi soprattutto in casa Samp era inevitabile secondo me l'esonero andiamo avanti comunque con la nostra classifica entriamo quasi in zona europea perché siamo al settimo posto e io al settimo posto adesso mi uccidete ho messo l'Atalanta quest'estate l'Atalanta di Gasperini dicendo peraltro questa cosa e perché? perché gioca la Champions League quindi tutti sappiamo lo sanno anche i giocatori di Bergamo che il terzo posto dell'anno scorso non è impossibile da replicare ma sicuramente molto molto difficile quindi quasi impossibile quindi io comunque un po' ero stato paraculo se vogliamo non avevo più di tanto detto ok sarà impossibile la logica voleva questo ma penso che non fossi l'unico a credere che sarebbe stato complicato quantomeno rivedere un'Atalanta del genere così come non mi aspettavo il passaggio agli ottavi anche se poi lo dissi su Instagram che l'Atalanta poteva fare uno scherzetto nei gironi di Champions quindi chapeau chapeau Gasperini se avessi un cappello me lo toglierei in questo momento non mi aspettavo che riuscisse a curare così bene tutte le competizioni non so se ci riuscirà fino alla fine del campionato e quindi torniamo al discorso che facevo prima il pronostico è sulle 38 partite non sulle 19 però vedremo nel frattempo andiamo avanti perché al settimo posto in realtà c'è il Parma al sesto c'è il Cagliari che io avevo messo molto più giù al sesto della mia classifica avevo messo la Lazio pensando ad una stagione un po' sulla falsariga delle scorse quindi io non credo che sia impossibile che la Lazio arrivi sesta perché comunque c'è ancora la possibilità aritmetica ma viste le prime 19 giornate visto come sta giocando la squadra di Inzaghi e viste le ambizioni e gli ottimi risultati che sono arrivati è più aritmetico che vinca lo scudetto rispetto ad arrivare al sesto posto quantomeno in questo momento poi vedremo complimenti anche a Simone Inzaghi per il gioco e per la grande squadra che sta costruendo ma abbiamo parlato anche di questo vi lascio il video nelle schede realizzato qualche settimana fa andiamo avanti al quinto posto attualmente c'è la Roma vista la sconfitta contro la Juventus ma è questione veramente di differenza reti perché ha pari punti con l'Atalanta quarta e quindi è come fosse al quarto posto del resto lo è stata praticamente per tutto il girone d'andata ed era anche il mio pronostico la Roma l'ho messa al quarto posto al quinto avevo messo il Milan dando cosa ragazzi fiducia a Giampaolo qui purtroppo c'è chi riderà dall'altra parte dello schermo ma la fiducia a Giampaolo andava data stesso discorso che faccio per Andrea Zoli fine del matrimonio con Gattuso si prendono strade diverse scegli Giampaolo capendo e dovendo sapere che va dato tempo perché si tratta di un allenatore che viene dalla Sampdoria e quindi arriva in un contesto nettamente più blasonato ha bisogno di un mercato ok ma ha bisogno soprattutto di tempo per costruire qualcosa e tu lo esoneri tranquillamente andiamo avanti con la classifica però perché appunto quinto e quarto posto presi a metà nel senso che la Roma più o meno è lì ma potrebbe tranquillamente arrivarci secondo me a fine campionato tuttora al terzo posto avevo messo l'Inter Inter che in realtà è al secondo con la Lazio al terzo Inter tra l'altro che si sta lottando il titolo con la Juventus proprio di domenica in domenica quindi è al secondo ma tratti anche al primo posto dove avevo messo chiaramente la Juve con il Napoli pronosticato secondo con logica però poi è successa l'Apocalisse in casa partenopea ora questa è la classifica totale la state anche vedendo in grafica la mia messa in relazione con quella reale adesso per fare un giochino ma facciamolo insieme quindi scrivetemi qui sotto secondo voi come sarà questa questa classifica tra altre 19 giornate quindi alla fine proprio del campionato ora al di là di posizioni che ho fatto totalmente quest'estate quindi provando un po' a rivederle vi dico che sulla base di questa classifica alla fine in questo momento Spalventesima Genoa e Brescia poco meglio con il Lecce l'inzona io vi dico che alla fine secondo me a retrocedere sarà il Lecce e non il Genoa che invece secondo me si salverà questo ve lo dico semplicemente per esperienza e conoscenza del campionato perché il Lecce era partito molto meglio si sta perdendo per strada alla lunga stanno uscendo i limiti della squadra di Liberani che ripeto ha mostrato belle cose ma o si rinforza decentemente a gennaio oppure secondo me non riuscirà a restare in Serie A magari tornandoci poi l'anno dopo insomma bisogna fare anche un po' di esperienza per quanto riguarda invece la zona Europa secondo me alla fine della stagione al quinto e al sesto posto non so in che ordine ci saranno il Milan così a sensazione nonostante insomma tutte le critiche che quando mi sono sentito di fare ho fatto al Milan però sto vedendo una ripresa e secondo me in Europa almeno in Europa League ci potrà arrivare e al quinto posto al quinto posto ragazzi è difficile molto difficile però vi dico che stesso ragionamento di quest'estate ci sono anche gli ottavi di Champions adesso e non so quanto potrà durare io ci metto l'Atalanta insisto e do fiducia alla Roma per la Champions League così come a Lazio Inter e Juventus per quanto riguarda le ultime due Tengsardik perché si stanno giocando lo scudetto attenzione alla Lazio che si potrebbe inserire ma attenzione anche alla Lazio dal punto di vista fisico perché io non voglio occupare nulla a nessuno ma nella seconda parte di stagione c'è anche quel rischio lì se la Lazio non risentisse di problemi fisici secondo me potrebbe tranquillamente restare terza con la Roma al quarto posto e al quinto il sesto posto Atalanta e Milan non so ditemi comunque la vostra qui sotto nei commenti era carino secondo me analizzare quello detto cinque mesi fa e adesso tra cinque sei mesi vedremo quante castronerie avremo detto in questo video voi intanto ditemi la vostra qui sotto nei commenti lasciate un like se il video vi è piaciuto ci vediamo vi ricordo domenica 19 gennaio a Roma per il derby degli youtuber 7.0 eventone speriamo non piova almeno perché il meteo è un po' titubante in questi giorni e poi 26 gennaio appuntamento qui su youtube nel frattempo vi ricordo anche di seguirmi su instagram per restare aggiornati sulla mia vita la mia avventura sport italia e tu sia qua pelata col cerchietto fucsia sempre presente un bacione never give up e bella regata